Stasera torna a casa a piedi, ma... Tieni, lasciami la casa Ciao, Tom Buonasera Buonasera Ma anch'io, non c'è giorno della mia vita in cui non mi sento un impostore Guardo, ho parlato con tutti, prenti, medici, avvocati E tutti hanno gli stessi problemi Ciao, Tom Sono qui Ciao Come è andata la tua giornata? Ah, niente male, il film è una specie di storia di Ho Chi Minh Alla Walt Disney Ma a parte questo è favoloso Niente di interessante qui? Questa E hai anche ricevuto un invito Che cos'è? C'è nella casa bianca E hai invitato a me, cos'è? Un grande ricevimento? Cinque o sei persone Ah, giovedì Favoloso Ciao mamma Che hai fatto oggi? Cose? Come sarebbe a dire cose Beh, io e Sharon abbiamo giocato un po' in giardino Ah sì? E abbiamo fatto un picnic sul fiume Ah sì? E che altro? Oh ma, ma dovevi vedere C'era un uomo con un cavallo bellissimo Tutto grigio È vero che era bello? Ah sì, un cavallo Bellissimo Ma era un cavallo oppure un puletro? Un cavallo credo, sì Ah Era grigio Era così bello, sai E lui me l'ha fatto provare Ho fatto tutto un giro Certo Quasi mezz'ora Bene Favoloso Oh mamma, me lo compri un cavallo? No, mentre stiamo a Washington tesoro Che no? Ne riparliamo quando torniamo a casa Quando me lo compri? Vedremo, Reagan, vedremo Senti, per gli inviti a me parte Voglio scrivere un biglietto per solo lei No, no Lascia stare, Reagan Reagan Canaglia, torna subito No, no No No, no No, no Lascia, non te ne prenderai Dammi lo tu No